15 secondi alla partenza della seconda del convegno premio oscura a Baia GT, un confronto sulla distanza breve per i soggetti di 4 anni, sono rimasti al dia in 5, Raimojet, Rublego e Real Estate ammoledato forfait e quindi sono rimasti in 5 i partecipanti. Al numero 2, Reforzo di altura, Federico Esposito, al 3, Red Wind, Enrico Vellea, al 4, Indium, Alessio, Salvatore Massera, al 7, Rockstar, Luz, Antonio Galluccio, 8, River, B, Power, Gennaro, Riccio. Questo è il campo partente, la macchina sta completando la curva di sinistra, entra ora nella resta delle tribune, va gradualmente accelerando. In vantaggio, Reforzo di azzurra, nella sua scia ripiega Ready Wind, allargo River di Power, poi Ring M.R.S. e Rockstar, Luz, 200 iniziali in 13,9. Bocco della prima curva, con in vantaggio Reforz, Redi di rincalco, poi Ringlio, ora Rockstar, che spiaggia all'esterno, River di Power, 430. in 30. Completata la prima curva, i cavalli vanno da rimbocchiare la retta opposta alle tribune, con Reforz che passa ora al paletto dei 600 iniziali in 46,5. Sto facendo la retta di là, la River di Power va ad afficcinare il Reforz di azzurra, da Redi Wind e qui dall'estercato, poi Ringlio, con all'Aigo Rockstar. 200 iniziali, che vanno via in 1,2 sul piede del 1,17 e mezzo, quindi c'è il quattro l'ultima prossimo di Reforz di azzurra, che affronta ora l'ingresso sulla curva conclusiva. Il passaggio al primo chilometro, in questa istante, in 1,16 e 4 sul mio cronomico, metà della piegata conclusiva, Report, River allargo, Redi Wind in corta, Terzo iniziali allo staccato per l'ingham, resta all'esterno, è invece Rockstar nella scia di River di Power. Il resto della retta di arrivo, 3,50 per il minuto a casa, con in vantaggio sempre Report di azzurra. Report al comando, a largo, River di Power, c'è spazio anche per Redi Wind, Report però allunga. Si stacca al comando, Report di azzurra, 50 al palo, Report di azzurra, vince facile, davanti a River di Power, con il senso, arrivo molto stretto. Ringlio, a centro pista, Rockstar nel mezzo, Redi Wind. Dunque, Report di azzurra, Federico Esposito, il training è di Eric Fondo, i colori sono dell'azienda agricola Montemiglia. La quota totalizzatore, 1,45, il tempo al chilometro nell'ordine dell'1,14 e 8, decimo più decimo minuto.